Come riconoscere la differenza di un conegliano valdobbiadene? Si parte dal colore, che è un colore bellissimo, vivace, con un bellissimo perlage, che accompagna poi tre importanti aspetti sensoriali, dei profumi, profumi di fiori, di frutta, di frutta matura, sempre molto eleganti, i profumi di fiori bianchi, il glicine soprattutto, e talvolta anche sfumature di frutta come la pesca, l'albicocca e note anche tropicali con un leggero tono di agrumi che stanno nel sottofondo del naso del calice di conegliano valdobbiadene. Queste spiccate note di frutta, di fiori, di agrumi vengono donate al vino dalle uve che dal terroir unico nascono e sono caratterizzate proprio da una fortissima sapidità che ritroviamo poi nel gusto del vino. La sapidità rende il vino energetico per l'equilibrio prezioso che c'è tra acidi e zuccheri. La mineralità del conegliano valdobbiadene dipende dal terreno, dalla ricchezza minerale lasciata dal mare che migliaia di anni or sono caratterizzava e copriva le colline di questo bellissimo territorio.